Non mi piace, ma è molto meglio che andate a casa. C'era un pensiero nella mia mente. Ho 25 anni, non sono stato da nessuna parte, non ho viaggiato, non ho visto il mondo e ora sto morendo. E' accaduto esattamente il contrario. Adesso sto viaggiando, sono stato ovunque, Stati Uniti, Cina e ovviamente anche l'Europa. La squadra paralimpica ucraina si è classificata sesta ai giochi di Tokyo del 2021 e terza in Brasile nel 2016. Un altro modo di servire il suo paese. E per Korinez che si presentò all'ufficio di leva il giorno dell'invasione rossa in Ucraina, l'inizio di una nuova esistenza.